Cari spettatori del Cinevirus, oggi vi parliamo del grande Lebovski dei fratelli Cohen, Joel e Ethan, 1998. I fratelli sono i discoli di Hollywood, amano scardinare da Fargo a Arizona Junior, a Brut Simple, a Mr. Ullaop, le carte dei generi, saltano dall'uno all'altro, le loro storie cominciano, vanno in una direzione, ti illudono e si spostano subito in un altro, un po' come Penelo, perché fa e disfa la tela ininterrottamente, loro stessi forse a un certo punto rischiano di perdere il filo della loro storia, ma è questo il fascino del raccontare, raccontare sul racconto che diventa un altro racconto che diventa un altro racconto, è la forza straordinaria anche del cinema. E allora, The Big Lebovski, è un personaggio interpretato da Jeff Bridges e è un'epica di un modo di vivere, fannullone, pigro, bevute di white russian, un po' di marijuana e soprattutto l'amatissimo bowling, dove incontra due amici, Donnie, Stevie Buscemi e l'estemporaneo, folle, fin dallo sguardo, Walter Sobchak di John Turturro. La loro vita scorre orizzontalmente come la palla del bowling, solo che i birilli si mettono di traverso perché a un certo punto cominciano a succedere cose molto strane, un rapimento che forse non è un rapimento, la casa di Jeffrey che viene mandata all'aria, un miliardario che forse non è un miliardario, una valigetta piena di dollari che forse non è piena di dollari, insomma un intreccio ininterrotto di situazioni che si capovolgono l'una sull'altra e forse alla fine anche i protagonisti perdono la bussola. Alla fine purtroppo Donnie muore, forse stravolto da tutta la vicenda che gli sta occorrendo e i due amici sopravvissuti, The Big Lebovski appunto e Walter Sobchak, gettano le ceneri verso il mare, purtroppo controvento, le ceneri gli sbattono tutte addosso. Colonna sonora, magnifica, straordinaria, tra l'altro Bob Dylan, The Man in Me.